bene siamo qua per giuseppe ciao 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 a tutti conto del 51 e ti connetti maggiormente a giuseppe 5 4 3 2 no il micro allora lo vedo e lui e lo vedo come se fosse è come se fosse seduto su una poltrona fatta tipo a semicirchio con uno schienale rigido ma da cui non si può alzare ok ti dà l'autorizzazione si valori vibrazione 70 milioni bassa ok per centone di consapevolezza a causa esoterica di questo sentirmi male è il fatto è che se iniziamo a far a lavorare sulla consapevolezza anche di chi lavora per loro inizia a essere pesante vogliono sapere tutti i dettagli il tema di oggi sono i militari una società di questo tipo in più prima di questa sessione mi vengono a riferire cosa che sapevo già ma insomma dei dettagli sono sempre piacevoli che un noto gruppo che si occupa di ipnosi ha pagato espressamente proprio un uomo sui 35 anni che salutiamo salutano anche tu ciao 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 e si guarda tutte le sessioni no si guarda tutte le sessioni studiano comparano eccetera va bene analizzamolo velocemente e guardano le sessioni inedite quindi queste in diretta guardano quelle pubblicate o guardano quelle magari a volte precaricate sul canale ma non ancora pubbliche allora se se hanno urgenza le seguono cercano di seguirli in diretta come stanno cercando di fare oggi e anche stamattina hanno provato un po se se invece non sentono una grossa urgenza ma notano che può esserci qualcosa che abbiamo fatto in seguito però se ne accorgono riescono ad entrare nell'altro canale che abbiamo detto altrimenti diciamo se non c'è niente di così impellente se ne guardano di routine tutti i giorni ok e adesso sono collegati con noi certo fino a come adesso si sono scollegati in questo momento perché hanno sentito che fra un attimo si ricollegheranno perché pensano che non vedendo da più di il capo di questo gruppo quanto è pagato dalla dai militari 20.000 la mente però ok con questi 20.000 si mette in banca o ci paga ai collaboratori cioè i collaboratori sono pagati extra sì quindi lui può chiedere tutti i collaboratori che vuole ma un numero deve fare una selezione specifica certo chiaro però ne ha un male traduzione limitato uno fa la segretaria l'altro fa quello che guarda i video e poi lui raccoglie quando in alcuni di questi momenti prende se ne va doveva allora vada questo tizio militare su capo si su superiore e poi ce ne sono altri due più in su e poi c'è il direttore del progetto che che è direttamente in europa nel senso come si chiama il direttore del progetto frank di origine inglese con il nome till board till board sì ok inglese se inglese inglese non americano inglese è qui presente è arrivato adesso come se mentre diciamo mi appariva mi appariva il nome lui arrivasse e quello che invece segue tutti i video lo schiavetto 35 anni come si chiama daniele ok a settembre mi sembra mi hanno seguito e tu lo sai ma erano legati a loro si si erano legati a loro non a loro direttamente al a bb di board diciamo ai capi insomma non si è tutto esatto nel senso che non fanno parte di quelli stipendiati da quello che prende 20 mila euro ma diciamo è un'altra un altro gruppo dello stesso progetto che però fa altre cose come si chiama questo gruppo di militari cosa servizi segreti si si fa parte io lo vedo sempre sempre parte del deep state sono dei servizi segreti sono dei soldati militari più che soldati sono militari diciamo di una parola allenati nella parola addestrati addestrati per fare questo tipo di lavoro e lo scopo di 7 di quelli che mi seguiva settembre che si è fatto notare era di mandarmi nel panico come per dire state attenti perché vi stiamo osservando la timore in rosa ok quello che mi ha scritto quello che sei tu cosa aveva uguale è sua parte di quel gruppo lì è un'altra la donna che giaceva con quel capo e che probabilmente adesso non giace più invece il ruolo a quella che ogni tanto è venuta a provare a far interferire con il nostro lavoro la stetta con capelli neri veri una cosa neanche parlare italiano diciamo che più o meno è allo stesso livello di quello che stipendia dopo che adesso sì ma la lavapiatti francamente adesso sì ma si è fatta stipendiare e certo ok come si passa da quella parte lì si è visto che ha parlato di deep state di cosa si parla stiamo parlando di iniziazioni si uccide la capra hanno già fatto lì sì sì ma capra no sono il primo step è come il primo se andiamo all'iniziazione di questa quarta non so parlare ok allora entrata nel diciamo si è fatta notare da quello che stipendia quello che prende 20 mila euro si è fatta notare è stata notare l'ha fatto con l'ha convinto a farsi di entrare nel suo mondo ok adesso lei si rivolge a quelli superiori ok però per entrare lì devi essere iniziato allora fanno un rito piccolo rito in poche persone sono 45 con questa persona ok arriva fanno tipo quelli che quello che deve essere iniziato lo vedo vestito con un mantello nero un cappuccio arriva sui ginocchi abbassa la testa e fanno tipo un taglietto non so se un taglietto qualcosa sulla testa tipo un incisione che però probabilmente non è perché non rimane poi non la vedi dopo quindi probabilmente è solo sulla superficiale ok dopo questo rito che dura questo è proprio un rito così solo simbolico loro devono andare a letto con varie persone che gli vengono assegnate tra virgolette cioè non gli viene neanche detto chi sono né prima né dopo quell'ora lì in quel posto lì tu vai senza fiatare che quello che ti dicono ok per un po di volte per un po di tempo dopodiché inizi a partecipare solo partecipare vedere ok ai sacrifici davanti a tutti allora sono cerchi più grossi ok sacrifici di che tipo no solo non violentano fanno tipo oggi così e tutti che guardano quel tipo di sacrificio ok per un questo del fisico nell'eterico nel fisico proprio io lo vedo fisico poi lo step che tu fai vieni fai parte del sacrificio c'è fai parte viene diventata va va ma se sei uomo vedi diventato sì 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 esatto e ora si è mediato è stato penetrato analmente sì 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 sia lui che lei e poi il prossimo step è iniziare a fare i sacrifici in persone fare del male fu iniziat場 a mangiare bere il sangue ma passa passa ancora un po di tempo vanno avanti un po a fare questa parte qua a essere sacrificando sì se quando arriverà a questo momento i guadagni saliranno alle stelle se sì certo più tu ci stai più aumentano come se si moltiplicassero esponenzialmente dimmi quanto ha guadagnato finora allo stipendiato da questa avventura ipnotica mi viene due milioni e mezzo di euro netti va bene torniamo a giuseppe oggi parliamo di militari e giuseppe è legato ai militari torniamo ai suoi valori 70 milioni percentuali di consapevolezza 125 per cento ok psp e ps 35 p e 65 numero di vite 927 e percentuali di cervello utilizzato nove e mezzo ok valore di consapevolezza di cervello molto alti vibrazione sotto le scarpe ok perché causa esoterica della vibrazione così alta in contrasto con un'altra consapevolezza lui stesso ci ha detto che da sempre da bambino è a favore delle indagini su temi di confine non è così legato come dire alla scienza ufficiale cospirazioni e così via quindi l'alta consapevolezza può derivare da questo però perché così passa con vibrazione diciamo che quello quello che fa nella pratica cioè sia il suo lavoro e sia il suo atteggiamento nei rapporti sociali cioè quello che lui prova quello quello che lui sente nel rapporto così ok quindi il fatto che si sente un po isolato che si senta giudicato tenuto lontano ecco queste cose qua fanno sì che le vibrazioni rimangano molto basse e questa quest'ultima cosa è data da un'entità mentale di che livello 3 ti chiesti giudicato osservato e giudicato ecco che osservato giudicato sì esatto e quindi che si sente ne soffre di questa cosa che è il fatto che soffra di questa cosa fa sì che le vibrazioni stiano basse va bene giuseppe non vive neanche un paese in un paese alla fine perché tutti parlano di te tutti sanno tutti dicano viene sapere che tutti sanno tutto di tutti questa entità mentale e combina che vivono in re non ho qualche aveva sentito male non capisco non ci sono ora non ci sono ragioni per cui mi sentiate tornati a romperle qual è la causa sono tornato non la finiamo subito infatti siamo mettiamo i nostri ad eternum intorno a questa connessione a questa sessione questi che ascoltano i militari lo stipendiato quella che non so parlare italiano vibrano alto no non possono vibrare alto io vedo che hanno una ps praticamente minuscola ok gli ad eternum gli dà un fastidio sì è come se lì il jazz piena una casa piena tutti quelli che abbiamo citato hanno la casa piena di ad eternum e spiego a giuseppe che cos'è ci siamo inventati è un solino una pallina da ping pong che ad eternum cioè per sempre nel momento in cui la creiamo e l'abbiamo creata adesso emana altissime frequenze le entità non la possono neanche vedere ti insegnano fare lontanissime perché si distruggono si avvicinano per spostarla per eliminarla non possono è una forma energetica che inizia adesso e non finirà mai più che noi mettiamo in un punto e che resta lì per sempre l'abbiamo messa dove ci sono gli avatar l'abbiamo messa dove ci sono le entità abbiamo messa in pianeti adesso la mettiamo a questi qua che ci rompono le palle con la loro curiosità dimmi che succede allo stipendiato come se è presente la scena come se fosse dracula se prende la luce del sole fa quella roba c'è vedo proprio che da dentro inizio glielo messo sulla mano e quindi da lì iniziato a proprio a bruciare ok e l'illetterata quella che dice anche lì ho inciso e non sii conciso ce ne vuole ragazzi sii coincisa dimmi che cosa succede anche lei della flessa e anche lei draculessa vero a ok daniele che controlla le sessioni cosa succede bruciato anche lui c'è vedo proprio che diventano luminosi ma che si bruciano dentro frank di board che gli succede perché ognuno non ce l'ha in casa collaboratori francesi spagnoli argentini italiani polacchi rumeni a tutti prenderne consapevolezza dovete accettare i po i pro e il conto sia gli zeri del conto in banca sia i nostri cari ad eternum e non si muove ne avete uno in casa è uno che vi segue per sempre non si stacca l'altronde un gran regalo perché ti produce alte frequenze quindi noi li sappiamo poco dure loro no ma è un regalo per cui se decidi di vibrare alto ti ha fatto un regalo gratis per di più fatto che 20 mila al mese ma ma che succede a frank di bordo avevo proprio visto in una delle a casa su in una stanza penso su ufficio ok è diventato tutto vibrazione tutta la stanza anche lui e lì come se facesse così dalla vibrazione alta perché altissima veramente per lui però lì che vibra insieme alla stanza e al capo di frank di il bordo allora sopra una delle famiglie illuminati vedo che con il rocci il domenica è proprio la fonte della testa e c'era sì è come se faccio la scheletro se lui è appena sotto quel freddo una d'eterno ma a tutti i rossi tutti rock feller tutti wins tutti una d'eterno ma a tutti questi signori qui tutti quelli che hanno fatto un rito ad eterno attaccato al culo sarà vero quello che facciamo fischio 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 chi sono dei fischi ci sono dei fischi e adesso ancora ma io non li sento una batteria no vai a certo sì sì giuseppe li sente mettiamo al più vecchio roccia il che possibilmente il capo il alterno ma tutti addosso tipo e quei pazzi fatti di palline velcro se ne bastano mille milioni se non ne basta un milione un miliardo tante belle palline le disegniamo anche come smile tutte gialle con loro due occhi e sorriso nero devi che succede elena come se lui dentro cioè come se la sua essenza fosse svanita cioè quindi dal suo corpo fosse svanito è rimasta sono rimasti questi questo milione di ad eterno ok che tengono la forma e poi iniziato a vibrare tutto intorno espandersi la vibrazione tutto intorno tutta intorno al a quelli che interagivano interagiscono con rocci con il capo di rocci quindi proprio una cosa così e quindi sto guardando lo sto vedendo l'effetto di questa cosa questa onda vibrazionale che si estende e poi vedo dall'alto vedo tutti i puntini di dove gli ad eternum stanno praticamente bruciando questi soggetti in tutto il mondo lo stipendiato l'illetterata che fanno ma sono lì che sono sotto l'effetto della mega vibrazione causa su teleca del fischio di adesso era un altro un altro militaretto che ha provato a interferire hanno mandato un altro va bene ok due piccole mie microscopiche domande personale visto che non parliamo di militari stamattina è caduto il mio modem per terra in mia assenza può essere scivolato molto strano in ogni caso c'è una causa esoterica e la saluta sono entrati di verso tir con il proprio buttato per terra ok chi sono sono questi qui di questo registi in vista di questa sessione di oggi di questo tipo sì quella di stamattina anche dava fastidio già 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 questa domanda tu lo sai bene c'è questa mensola quest'estate contenitore a rete è davvero caduta da sola ancora lì in mia assenza ma io nell'altra stanza buttando a car per terra bicchieri e ciotole se ne è rotto solo uno impossibile che sia caduta da sola perché non si è rotta cioè come se una mano l'avesse salta alto che è successo sono entrati c'è hanno avuto un portale ma che si esalta ci sono fuori tutti qui davanti secondo me cognome sesso età il mandante allora quello di quest'estate era lo stesso che ti seguiva mandante abbiamo già visto prima qua ce n'è un altro sempre fa parte sempre della di quella di quella parte lì del va bene allora ad entrambi una d'eterno che però vivrà molto più alto vibra un miliardo di più tutte e due hanno una d'eterno che si infila nel loro anno ok e chi non esce più da lì non può più uscire questo perché io l'ho detto lo ripeto lo continuerò a fare perché no perché no qualcuno dirai ma se tu che hai voluto questa esperienza se più o meno a volte non è proprio così perché io non a me non interessa questa roba non non do l'autorizzazione non l'ho data loro piegano queste regole immortali a me non interessa però così come a me è stato tolto qualche cosa con il disagio a loro io regalo qualcosa alta frequenza messa dove voglio io almeno quello me lo si concede ok quello che mi seguiva cosa fa con la sua bella pallina dentro allora li vedo che parte diciamo il bruciore da lì per le vibrazioni altissime essi immobili cioè rimangono immobili perché sono talmente alte le vibrazioni che non possono più muoversi come se venissero folgorati da un fulmine certo anche quando credo che che chi mette le dita nella presa si blocca già esatto talmente alta la l'elettricità che ti passa nel corpo che tu non puoi staccarti infatti fatti della staccare tirato chi una sedia di legno addosso perché quello non conduce solitamente funziona così e l'altro anche lo vedo quale per sempre mi piace ma d'eterno non si chiama ad momentum si chiama terno mi spiace è stato il progetto dello stipendiato come si chiama controllo del pensiero ma sempre parte dello stesso c'è il nome di tutto di quel progetto lì è sempre controllo del pensiero ok e quello che faccio quello che faccio io a un po è un progetto che ha un nome militare no io no però un progetto un nome immagino di no ma no 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 stavo cercando di verici di essere sicura nel senso stavo guardando ma assolutamente no non c'entra niente anzi no no è tutta roba nostra no anzi cosa vuoi dire è anzi che hanno visto che è molto potente quindi per quello che cercano di interferirci perché stiamo veramente facendo un lavoro cristalli sta mettendo il bastone tra le ruote non da poco e la sessione indagine q2 sta dando fastidio sta lavorando sì sì sta lavorando quella sta lavorando le altre salvando tutto tutto quello che noi facciamo tutti i giorni continua a lavorare inizia essere pesante veramente pesante per loro stanno facendo veramente fatica si dice nei vari fonti di informazione che i militari visto che sarà il titolo di questa sessione non sono tutti cattivi non ma sono anche quelli che stanno smantellando il deep state vero più che militari io vedo c'è ok sono io vedo queste persone addestrate anche a livello fisico e con delle armi ok perché è l'unico strumento che hanno per poter bloccare tutto ciò che è deep state ok però non sono veri e propri militari soldati militari idea tutti questi qua che stanno lavorando che vanno nei sotterranei vogliono una d'eterno ma testa sì quello che vedo proprio che ho già visto anche altre volte è che se libri troppa a volte se libri troppo alto non riesce a fare delle cose che devi fare concretamente quindi possiamo provare a dargliela da usare quando hanno bisogno va bene la mettono in un cassettino segreto e se la vanno a prendere a quando hanno bisogno di tirarsi su sì ma l'accettano sì sì assolutamente di questa è già una garanzia di validità di quello che fanno sì sì sì